benvenuti benvenuti alla nostra diretta del 2019 prima diretta del 2019 un ringraziamento a tutti voi che così di mattina siete presenti a quello che noi consideriamo il nostro discorso di capodanno del popolo della famiglia ringrazio antonella bagno che la primissima ad essere arrivata in particolare ringrazio il buon marco fasulo anzi gli chiedo di essere attento perché oggi parleremo molto di basilicata in questa diretta saluto andrea brenna pdf como andrea cavenaghi del pdf della brianza luca campisi popola famiglia di riccione saluto alessandra bertozzi rudinava cosimo leggero ilaria giurlani nel gruppo nelle toscanacce saluto con particolare affetto maria venita body gruppo delle venete delle padovane pdf padova il più bel gazebo di raccolta firme per il reddito di maternità c'è marco righi c'è federica lupi pdf abruzzo le nostre donne sempre in prima linea cristina zaccanti pdf piemonte giovanni barbaro mirco de carli ecco un abbraccio al caro mirco che è arrivato in connessione in questo momento c'è anche simona lupi del pdf abruzzo oltre a federica lupi antonia bassignana del pdf piemonte un saluto anche a maurizio maurizio schininà del coordinamento del pdf piemonte buongiorno a silvia lodà pdf roma barbara pudignani anna maria lauricella allora mi sembra di aver capito che non c'è stato il l'informazione l'informativa di notifica e dunque sta a voi sta a voi inviare la notizia che la diretta è iniziata come si fa si fa con i solidi metodi è arrivata anche sabrina bosu un abbraccio piero chiappano diego esposito pdf umbria c'è sarà reo nino iraci il nostro campione pdf liguria alessandra mondelli pdf novara daniela tascini pdf umbria stefania parma barbara putignani francesco carroni parisi davvero un abbraccio a tutti voi poiché ho visto che anche altrove ci chiedono il link alla diretta per esempio in chat operativa lo dico agli amici salvatore asero pdf catania sono reduce da un'iniziativa catania proprio il 20 di dicembre era ventini e invece con elena ventini si ricomincia il 12 gennaio da faenza pdf faenza ci troviamo a faenza il 12 gennaio mirco fanizi il pdf puglia insieme a vito pietro lo porcaro gabrielle parconi dell'eroico pdf bergamo 600 firme già raccolte su reddito di maternità e le nostre liste alle europee maglio nicola campanella pdf piemonte già impegnato anche per le regionali piemontesi intanto c'è lupi senior della stessa location tortoreto lido senza notifica appunto dicevo stavo dicendo salutato anche anna cavallo salutando gisella aderenti emilia clementi anna del guerra felice casetto facendo gli auguri a tutti voi enrica corradini dalla valtellina buon anno anche a te allora vi chiedo di dare notizia a tutti gli amici che invece la connessione non l'hanno avuta e la notifica non l'hanno avuta la diretta per favore il like alla diretta che stiamo facendo prima diretta del 2019 c'è anche nicolò marino dalla sicilia un abbraccio invece a rossano giorello da pinerolo che bello pinerolo e provincia di trapani insomma che stanno no il popolo la famiglia questo unisce davvero oggi addirittura sono stati bloccati gli aggiornamenti in scroll al profilo pensa un po gabriele cosa mi fanno dice informa gabriele marconi c'è giorgio banditelli allora graziano dice già condivisa la diretta benissimo allora a matteo pulicelli mi chiede come sto sto molto bene grazie a meri rossi a natalina minuz allora un like alla diretta serve per tenerci alti negli algoritmi di facebook la condivisione per favore se ci riuscite fate il condividi sul vostro profilo e infine il link da mandare in particolare ai nostri amici in chat operativa ai vostri amici su facebook ai vostri amici su whatsapp dare notizia a ciascuno che la nostra diretta sta iniziando ci è arrivato anche saimir grande il nostro presidente solo grosso peraltro con maglietta d'ordinanza insomma quindi più grosso del solito io saluto anche marco rus uno dei nostri anziani di queste belle colonne ultra settantenni che danno forza al popolo la famiglia grazie davvero a marco rus le nostre donne sono meravigliose mary rossi silvia lodà carmela cutolo e allora noi andiamo avanti in questo momento roberto frecentese conferma anche il blocco degli scroll ci fanno veramente di tutto sul nostro profilo ma noi cerchiamo di rispondere come con i numeri con i numeri che stanno affluendo nonostante sia la mattina presto della giorno di capodanno siete davvero in moltissimi si è svegliato pure stefano sigali un abbraccio particolare così come lillo terrana danilo bassan lillo terrana protagonista dell'iniziativa di ravan usa 21 di dicembre nel nel calendario delle mie attività c'è anche claudio parisini un fortissimo abbraccio a claudio parisini arrivato gianni archetti pdf brescia che fa gli auguri a tutti allora cercate di condividere più volte sul profilo fate avere il link alla diretta e vedrete che riusciremo ad argirare la limitazione derivante dalla dai blocchi vari che facebook ci fa sulle nostre dirette io cambio gli occhiali perché voglio comunque cominciare sempre questa non è una puntata di stampa evangelo un'ordinaria puntata di stampa evangelo siamo fuori dalla programmazione della pdf tv però ci tenevo a partire comunque il primo gennaio partire dalla anche dalla nostra fede no oggi è maria madre di dio per chi è cattolico per chi segue questa diretta moltissimi credo siano cattolici siano andati a messa la messa di oggi aveva la bellissima bellissima parola il vangelo di oggi la bellissima parola del capitolo secondo del vangelo di luca e allora chi se ne frega se ci bloccano gli scroll chi se ne frega lo diceva flavia lanci che non riesce a condividere luca molinaro conferma il blocco degli scrolli noi abbiamo mille difficoltà mille ostacoli ma li superiamo sempre andando alla fonte della nostra fede al vangelo allora lo leggiamo insieme c'è anche francesca marzoli che abbraccio forte anna ciappa le nostre donne meravigliose del popolo la famiglia che si ritrovano evidentemente oggi primo gennaio nella memoria di maria santissima madre di dio e la solennità del primo gennaio per i cattolici lo dico per chi non lo sapesse oggi per noi è un giorno importante non perché capodanno per i cattolici oggi la solennità di maria santissima madre di dio e il vangelo per chi di noi è andato già a messa per chi ci deve andare il vangelo di oggi è il vangelo più bello delle feste in quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono maria e giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore i pastori poi se ne tornavano glorificando e lodando dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione gli fu messo nome gesù come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre è la parola di dio di oggi la parola della festa veramente la festa dio che si manifesta agli ultimi ai pastori i pastori che riferiscono sono i primi i primi latori del messaggio del gesù adveniente sono coloro che cantano per primi quel meraviglioso canto natalizio che mi insegnarono da bimbo guardate un po' adesso mi viene di cantare la deste fideles cantatelo insieme a me magari adeste fideles leti triumfantes venite venite in betlehem natum videte reggem angelorum venite adoremus venite adoremus venite adoremus dominum ragazzi è il canto di festa è il canto dei pastori infatti dopo la canzone continua et grege relicto vabbè insomma non la faccio lunga ma è davvero il momento della gioia insomma ma scusatevi se ho fatto come dice silvia lo dà il presidente canterino o se come dice piero chiappano adesso mi sfotte dice partiamo in tour insieme però è il momento della gioia è davvero per noi questa la festa la festa è straordinaria io ho passato dei giorni incredibili perché il 24 dicembre ho fatto il battesimo di joanna benedetta con padre maurizio botta e arriva sempre quel momento in cui ti devi interrogare no stai facendo il battesimo i parenti e bomboniere tutte le storie storie e dici e l'ha detto padre maurizio nella piccola omelia che ha tenuto davanti a joanna benedetta o è questo il momento più importante della vita di questa bambina in cui diventa una cosa sola con cristo diventa cristiana oppure è tutta una presa in giro stiamo facendo una grande perdita di tempo e allora non ha senso niente non ha senso neanche celebrare il natale fare il presepe tutte le battaglie o è il momento in cui dobbiamo gioire poi verrà il momento del pianto della del venerdì santo della croce nel nostro anno liturgico è fatto così ma oggi o è il giorno in cui celebriamo maria santissima madre di dio lì santissima grande nata senza colpa unica tra le donne ma lì con i pastori e la mangiatoia nell'umiltà asserbare le cose che dicono i pastori nel loro cuore nel suo cuore oppure tutta una grande pantomima una grande enorme presa per il culo non c'è la la pongi quindi posso esprimermi alla mia maniera e siamo solo monadi nell'universo che ripetono stanchi riti poiché io invece ci credo io ho tanti difetti è un'enormità lo sapete assolutamente peccatore dei peggiori l'ultimo che sta a messa non posso neanche fare la comunione ma io ho una fede incrollabile e allora siccome ho fede oggi festeggio ho festa ho letizia nel cuore sono stata a messa ho letto e ascoltato questo vangelo straordinario perché la festa fosse trasferita anche a voi nei vostri cuori nell'anno 2019 dopo la nascita di cristo altrimenti non c'è senso cioè altrimenti non avrebbe senso neanche contare questi 2019 anni dopo la nascita di cristo e allora scusate la digressione canterina che serviva a sottolineare la dimensione umile nell'umile cantato che ovviamente ho potuto produrre di quei pastori che sono stati i primi latori del messaggio i più umili i più poveri tra tra coloro che c'erano intorno a quella condizione di umiltà e povertà che è la mangiatoia dove posto il piccolo corpo del bambino Gesù Cristo allora se questa è la grande giornata di festa grande festa per il popolo la famiglia composto in stragrande maggioranza di cristiani che hanno fede dunque credono quello in cui io certamente e fortemente credo tutto ciò ne arriva di conseguenza allora sono stato impressionato ve lo dico subito una serie di eventi sempre in queste feste vedevo gli spot in televisione di una roba che si chiama sex machine vibratori cose del genere su sky su mediaset ieri c'era la sera di capodanno a cine città world che è di roma lo sa cine città world è uno dei luoghi per famiglie più che va per la maggiore si centri commerciali che adesso insomma sono diventati luoghi di aggregazione familiare bene c'erano quattro cenoni a cine città world il più importante lo teneva uno chef enorme noto notissimo si chiama vissani chi erano gli ospiti di onore di questo di questo cenone di cine città world con vissani rocco siffredi e valentina nappi oddio mio due che come merito hanno quello di essere degli attori porno e come sapete sono opinionisti televisivi ormai televisivi radiofonici giornalistici da tutte le parti ci danno loro parere sul mondo sono protagonisti assoluti forse tra i più noti incredibilmente oggi non è noto un ingegnere molecolare uno scienziato neanche più un ministro è imparagonabile la notorietà che ha rocco siffredi con la notorietà del ministro degli esteri per esempio la volta era impensabile il ministro degli esteri faceva andreotti ed era infinitamente più noto di un qualsiasi porno attore diciamo così oggi è tutto il contrario oggi il ministro degli esteri non si sa bene se io lo chiedo a voi e non andate su google l'ottanta per cento non sa come si chiama il ministro degli esteri che per inciso si chiama moavero milanesi questo vi do questa notizia e invece tutti conoscono rocco siffredi si è invertita in maniera colossale la piaga per certi versi del meccanismo con cui si assorge a notorietà poi te lo ritrovi in televisione negli orari più impensati da barbara d'urso alle 17 roba del genere e c'hai la figlia di otto anni a me è capitato che ti dice è un attore porno papà cos'è il porno ecco a otto anni tu devi andare a rispondere a una bambina alla domanda cos'è il porno e allora vai con le circon navigazioni dei concetti sempre più no è il modo in cui delle donne gli uomini vendono il proprio corpo sì ma una bambina di otto anni che gli dici vieni messo in una condizione di difficoltà sei un genitore e allora riflettevo guardavo i programmi della settimana la settimana delle feste come sapete è la settimana in cui i bambini stanno davanti alla televisione di più vedo che è arrivata pure mia figlia a salutarmi in diretta ciao papà ecco appunto di lei parlavo di clara che è dai nonni a forlì mi saluta insieme a silvia a cui va il mio abbraccio è la mia infinita dichiarazione d'amore e di ringraziamento e di gratitudine per tutto quello che fa per me per la famiglia e alla fine anche per voi del popolo della famiglia quindi grazie davvero insomma uno si trova in queste condizioni e si trova a dover dare risposta allora dico cioè io scorrevo gli programmi di questa settimana settimana ripeto che sono giorni di festa in cui si sta magari un po' più in piedi si guarda un film in televisione che si sta tranquilli una volta nei giorni di festa nella settimana natalizia le settimane natalizie c'era ha saluto anche Carla Dodi da Forlì Graziano Delellis Floriana Ceccarelli si è tantissimi mi dicono di non riuscire a condividere cercate di dare notizie a tutti la diretta è in corso sto per arrivare al cuore di questa diretta e mi farebbe piacere che ci fossero più persone possibili il popolo e la famiglia quindi cosa potete fare un like alla diretta se vi è piaciuta fino a questo momento ho pure cantato quindi spero vi piaccia una condivisione sul profilo vostro se ci riuscite se è tecnicamente fattibile dicono che qui non si riesca a fare la condivisione e poi prendete il link e lo trasmettete a tutti i vostri amici in chat nella chat operativa pdf nel vostro elenco di amici messenger e così cerchiamo di dare questo messaggio a più persone possibili saluto anche Marco Russe che si è ritrovato da nonno nella stessa condizione nipote di 9 anni gli chiede cosa è il porno e lui dice sono storie di sesso distorto da evitare ma già il concetto di sesso distorto è qualcosa di complicato da comunicare a un bambino di 9 anni che non è neanche il concetto di sesso in sé quindi allora ci ritroviamo a questa scena ve lo dico in breve il 4 di gennaio Rai 1 prima serata piene feste natalizie 4 gennaio la Rai del cambiamento quella di Marcello Foa perché adesso tutto è cambiato finalmente bla 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 ci propone in prima serata una bella produzione Apulo Lucana Pugliese Lucana ambientata in Basilicata uno dice ah finalmente una storia sull'Aglianico il vino della Basilicata con una bellissima donna Ornella Muti ingaggiata prodotta da Rai Cinema cioè con i soldi del vostro canone con i soldi vostri fondamentalmente prodotta da Rai Cinema da una casa di produzione un po' misconosciuta che si chiama Altre Storie come sapete i film per andare in televisione devono prima andare l'anno precedente in sala allora che hanno fatto? hanno preso questo mandato l'hanno mandato per due giorni 18 e 19 dicembre in pochissime sale due giorni per poi spiattellarci nel 4 di gennaio 2019 subito in prima serata televisiva e propinarci un bel bacio tra maschi lungo, insistito inequivocabile di quelli che resti davanti alla TV e poi la figlia ti chiede papà ma perché? allora io voglio dire al presidente Foa no? ora se il cambiamento è prendere le porcate che facevano di solito a Rai 3 in seconda serata e trasferirle a Rai 1 in prima ebbè sto cambiamento non va bene il popolo della famiglia chiede formalmente al presidente della Rai Marcello Foa di impedire la trasmissione di un prolungato bacio tra maschi in prima serata televisiva su Rai 1 per proteggere 5 milioni di bambini che hanno tra 0 e 10 anni e i loro genitori che non devono ritrovarsi nella condizione anche durante le sante feste di Natale di dover spiegare l'inspiegabile sono stato chiaro l'ho detta abbastanza chiaramente caro presidente Foa se va in onda il 4 gennaio questa roba che è una marchetta che non è un film è una marchetta che avete mandato nelle sale cinematografiche il 18 e il 19 dicembre per poterle mandare poi il 4 gennaio in prima serata televisiva se fate questa porcata il popolo e la famiglia in tutti i circoli scende in piazza per denunciare questa orrenda manipolazione anche del tempo santo dedicato al riposo natalizio e festivo delle festività natalizie credo che sia noto il fatto che io non sono un sessuofobo sessuofobico non ho paura del sesso tutt'altro sono in tutta evidenza una persona che è molto aperta e discute su tutto quello che volete però non se ne può più però non se ne può più ci deve essere un minimo di rispetto per le famiglie un minimo non possiamo andare avanti con gli spot dei vibratori con Rocco Siffredi in ogni angolo del palinsesto televisivo e radiofonio con i baci fra maschi alle 10 di sera non si può continuare a mancare di rispetto su temi delicatissimi rispetto al quale non sto dicendo che non ne parlerò a mia figlia ma ne voglio parlare nei tempi e nei modi che deciderò io senza che ciò sia imposto dalla televisione di stato alla quale do fior di quattrini per produrre queste stupidaggini che adesso andranno in onda e per fare operazioni francamente con questa casa di produzione un po' strane questa casa di produzione ripeto un film con Ornella Muti con Ornella Muti che non va nelle sale ci va di straforo per due giorni per caso e poi finisce il 4 gennaio immediatamente in prima serata sul Rai 1 e poi c'è un altro film un solo altro film nel 2018 che è pronto da aprile indovinate qual è l'argomento il matrimonio tra uomini cosiddetto matrimonio tra uomini guarda caso sempre Rai Cinema altre storie ora va bene tutto noi non siamo oscurantisti non siamo omofobi ma ai nostri figli quando è come parlare di omosessualità lo decidiamo noi come famiglie non lo decide la tv di stato con i nostri soldi per fare le marchette spero di essere stato abbastanza chiaro è una denuncia che noi ovviamente adesso tradurremo in comunicato stampa in appello evidente al presidente della Rai Marcello Foa ai nuovi vertici di Rai 1 che evidentemente sono arrivati un po' distratti a queste feste natalizie o forse visto che alcuni al governo penso il sottosegretario Spatafora faccio i nomi e i cognomi come vedete faccio i nomi e i cognomi visto che qualcuno al governo pensa di aver timbrato le nomine dei direttori di Rai 1 dei direttori di rete e appartiene a una certa lobby guarda caso vuole dare anche subito il segnale no della vittoria e in piene feste natalizie fa quello che non è stato mai osato ora io non è che chiedo di riprodurre il Gesù di Nazareth di Zeffirelli noto omotestuale peraltro e mia c'erano problemi allora o anche i comizi d'amore di Pasolini guardate un po' vorrei qualsiasi altra cosa ma non il 4 di gennaio in piena festa in pieni giorni festivi avere lì il film ideologico che neanche usa Ornella Muti la paga e basta per far poi centrare tutto su questa cosa del bacio tra due maschi allora io chiedo davvero che questo film non sia mandato in onda o sia mandato in onda con quella scena evidentemente cancellata perché è un oltraggio alle famiglie italiane alle famiglie italiane che meritano di portare tranquille almeno nelle serate che precedono che precedono il ritorno alle scuole del 7 gennaio ovviamente noi ci mobiliteremo tutti in tutti i territori ogni circolo è chiamato a mandare il comunicato che già ha perché l'ho mandato in in chat operativa ai propri referenti giornalistici locali che oggi lavorano perché domani escono i giornali quindi oggi primo gennaio fatevi sentire su tutti i giornali locali il popolo la famiglia si mobilita perché non è più sopportabile questo tipo di offensiva che ripeto riguarda la protezione di 5 milioni di bambini tra 0 e 10 anni e dei loro genitori che sono 10 milioni evidentemente e bisogna stare insomma un po' nelle condizioni di poter dare disposte senza dover vivere sempre sul chivalà anche in un film con Arnella Muti insomma dateci tregua dateci tregua in particolare mi rivolgo a Marco Fasulo agli amici del PDF Lucano è stato già proiettato a Matera pochi giorni fa questo questo film fate un comunicato anche alla stampa lucana e l'autore di questo film si chiama Domenico Fortunato è un regista lucano la produzione ha a che fare con la Puglia e con la Lucania i soldi sono stati messi dal banco della Puglia e della Lucania ecco insomma siccome la storia anche della produzione di questa vicenda non c'è una uscita in sala c'è un'uscita farlocca di due giorni 18 e 19 dicembre proprio per farla poi uscire in televisione il 4 gennaio adesso noi vogliamo approfondire però questi meccanismi insomma sembrano proprio meccanismi da lobby perché il meccanismo è sempre lo stesso ricordate seguite i soldi se volete capire i meccanismi seguite i soldi questo è spremitura delle vostre tasche i vostri soldi finiscono alla RAI che fa dei film con una azienda che si chiama RAI Cinema RAI Cinema si mette d'accordo con l'azienda produttrice che si chiama Altre Storie con i soldi vostri vanno a produrre queste solderie che poi vi propongono il 4 gennaio mentre state tranquilli sulla tv di Stato in prima serata su RAI 1 su RAI 1 ora queste operazioni che erano quelle fatte da Dario Bignardi con tutti i film quando era direttore di RAI 3 con tutti i programmini fatti apposta in seconda serata a me va bene tutto però che adesso la RAI debba diventare uno dei tanti luoghi in cui una determinata lobby fa valanghe di soldi prendendole dalla fiscalità generale cioè dalle tasse che paghiamo noi famiglie beh anche no anche no adesso basta sto giochino deve finire prima o poi che hanno capito tutti il giochino è un giochino di quattrini è sempre un giochino di quattrini tu paghi le tasse questi li prendono e li infilano dentro a questi imbuti di fregnacce sono imbuti di fregnacce in cui i soliti nodi se ne arricchiscono con le solide modalità sempre attraverso il sistema pubblico Davide Spiga dice perché leghiamo in sozzerie perché è una storia d'amore di due uomini leghiamo così perché non si manda in onda questa roba in prima serata sul Rai 1 ti rispondo Davide mica c'ho paura figurati tu sei venuto qui anche gentilmente a seguire a voler interloquire va benissimo ma la risposta nostra che avete tutto sono tutti d'accordo se non avessi fatto io oggi questa diretta nessuno gli sarebbe accorto in niente nessuno avrebbe protestato nessuno avrebbe detto mezza parola non quelli di prima e non quelli di oggi non quelli del cambiamento e non quelli che sono stati cambiati tanto sono tutti uguali l'abbiamo capito perfettamente con questa legge di di manovra economica come al solito alle famiglie non ci pensa nessuno non ci pensava nessuno prima e non ci pensa nessuno adesso c'è il popolo della famiglia e fa il suo lavoro cioè difende la famiglia non mi fermo alla scelta di non guardarlo la Rai che lavora con i soldi di tutte le famiglie italiane non può privilegiare il punto di vista di poche migliaia di appartenenti a una lobby rispetto alle necessità di 10 milioni di genitori con 5 milioni di bambini tra 0 e 10 anni in questo senso è intollerabile che avvengano ancora queste prepotenze sono in casa con i miei figli siamo in casa con i nostri figli e la prima sera di Rai 1 non può a sorpresa creare queste condizioni perché se non l'avessi denunciato io oggi con questa diretta con ogni probabilità ovviamente nessuno sarebbe accorto neanche il 4 sera perché ormai nessuno reagisce a niente va bene tutto va bene Rocco Siffredi va bene lo spot del vibratore va bene qualsiasi cosa va bene la narrazione della famiglia naturale che è sempre dentro l'amore criminale la storie maledette come si intitolano le trasmissioni che raccontano ormai che ci sia una narrazione ora voglio dire Happy Days non è che voglio i Cunningham con tutto che era molto bello quando c'era i Cunningham era davvero bello vederseli o la casa della prateria o la famiglia Bradford o le tantissime serie italiane che sono state inventate partendo dall'idea di matrimonio un'infinità pensate all'infinita storia di Casa Pianello del rapporto tra Raimondo Mondaini Raimondo Pianello e Sandra Mondaini pensate la bellezza il divertimento l'ironia l'autoironia tutta la grandiosità che si è andata a perdere completamente perché oggi la rappresentazione in media nei media è sempre e soltanto la natura e questa natura è sempre lo ripeto sempre la natura di una narrazione che metta in cattiva luce la famiglia naturale allora noi adesso rispondiamo non stiamo a subire non ce ne frega niente di essere attaccati trattati come sessuofobici si sa che non lo siamo basta conoscermi un minimo un minimo per sapere quanto io non abbia alcuna forma di sessuofobia come non ho alcuna forma di omofobia ma da presidente del popolo della famiglia nel mio discorso del primo dell'anno chiedo rispetto in quest'anno per le famiglie italiane un rispetto che non c'è stato in manovra economica che non c'è stato mai in un intervento pubblico e continuano a non esserci anche addirittura non solo non aiutando ma addirittura prendendo i soldi delle famiglie italiane e pagando quei soldi delle famiglie italiane gli impicci di pochi migliaia di appartenenti a una lobby allora noi reagiamo reagiamo e lo spieghiamo spieghiamo il meccanismo raccontiamo di questa casa di produzione altre storie che fa uscire un film il 18 e 19 di dicembre per finta nelle sale per poi mandarlo il 4 gennaio in diretta su Rai 1 e noi vogliamo capire perché vogliamo capire come funziona il meccanismo per cui i soldi che noi paghiamo con le tasse finiscono al Rai Cinema e poi dentro a queste marchette che il Rai Cinema fa con le case di produzione amiche sono stato abbastanza chiaro? mi sembra di sì mi sembra di sì sono stato abbastanza chiaro ora il nostro 2019 sarà fatto così sarà fatto di battaglie politiche senza paura battaglie che faremo come al solito solo noi perché se non lo facciamo noi non lo fa nessuno questo è il popolo della famiglia questo è il popolo della famiglia una battaglia continua coraggiosa credo ci sarà riconosciuto il coraggio in tutto questo e ritengo anche con la capacità di essere indomiti come i capelli che Paola Procaccini ha notato un abbraccio un augurio anche la nostra grande Paola Procaccini per difendere per difendere i bambini e le famiglie questo è il nostro lavoro Carlo Beffa chiede qual è il titolo del film il titolo qual è si scrive senza apostrofo Carlo il titolo è Wine to Love vino dell'amore o d'amore Wine to Love c'è il nome in inglese ma è tutto ambientato in basilicata di un regista lucano che fa anche l'attore che sta dentro una casa di produzione che è tra la Puglia e la Basilicata il film è pagato dall'Alianico a cui fa sputoratamente pubblicità da una banca pugliese e lucana e oltre a tutto questo da Rai Cinema cioè dai soldi vostri dai soldi vostri è incredibile dai soldi vostri io ritengo che tutto questo debba ricevere una risposta e la nostra risposta la stiamo dando voglio salutare tanto anche Massimo Pistoia che è un dirigente del pdf di Cesena e tra poco sarò a Faenza sarà bellissimo tornare in Emilia Romagna il lavoro che state facendo è straordinario caro Massimo voglio salutare anche Massimo Cremax del pdf di Modena voglio salutare anche Romolo Catania che dice va a difesa l'innocenza è la verità buttatevi al televisore difendiamola tenendo i televisori e andando a dare messaggi perché è più importante tanto non si buttano i televisori stanno lì quindi interveniamo saluto Radolfo Zennaro che si è appena connesso Roberto Frecentese che è sempre più forte e netto nelle sue prese di posizioni Silvia Lodà che leggo con svariati commenti Mariella Desio auguri auguri a tutti i pdfini Antonio Granato Giovanni Gambini che dice inizi male l'anno Mario non lo inizio male lo inizio facendo quello che devo fare anche se tutti dite che faccio male ma tutti non siete perché grazie a Dio ho imparato che il mondo può cambiarlo anche una sola persona basta che non sia una persona sola e se leggete i commenti che stanno su questa chat vi rendete conto che non sono una persona sola c'è Sabrina Bosu con me che dice non ci arrenderemo alla violenza delle lobby c'è Maria Cristina De Pascale che dice la Rai piano piano si sta sabotando da sola c'è Mario Nicola Campanella c'è Caterina Gro grazie Mario c'è il nostro occhio vigile su quello che ci vogliono propinare c'è Emiliano Velasco le reazioni alla nostra battaglia sono di una virulenza infernale c'è Marco Cagliano c'è Flaminia Longobardi che è appena arrivata c'è Vito Pietro Loporcaro c'è Daniela Tascini che mi rassicura certo che non sei solo c'è Rossano Giorello da Pinerolo che dice è solo l'inizio c'è Filomena Amodio che dice no fai bene il buon Dio ti protegga c'è Antonio Petralla da Palagiano dove ho iniziato cinque anni fa portando Voglio la Mamma per la prima volta in un teatro ed era con Antonio Petralla al teatro Carol Uetiwa chi se lo dimentica il percorso che da cinque anni porta a fare tutto questo c'è Angelo De Santis che dice non passeranno sui nostri bambini glielo impediremo con tutte le nostre forze c'è Paola Gans che ha fatto raccolta firme il Circo di Venezia di Paola Gans anche il giorno 31 dicembre a meno due gradi c'è Paul Freeman il cattolico.it ti appoggia in pieno in questa campagna c'è Gianluca Valpondi c'è Walter Boero candidato alla presidenza regionale del Piemonte c'è Rita Mesiti c'è Carmelo Catalano c'è Eugenio Scaffidi c'è Marco Lentini c'è Gabriele Marconi c'è Anna Del Guerra quarto anno da presidente del PDF c'è ragione l'anno prossimo scato finalmente a marzo del 2020 finisce questo mio compito grazie a c'è Antonia Bassignana e allora davvero vi ringrazio moltissimo perché fate quello che dice Cristina Zaccanti resistiamo da anni e resisteremo con tutte le forze Adriana Di Donato dice bisogna combattere la buona battaglia Anna Cavallo Maria ci protegga e ci guidi nella battaglia Anna Ciappa il 5 gennaio saremo nei pressi di Piazza Navona con Francesco Carrone Parisi Guido Pianaselli e tutto il PDF di Roma saluto Piero Micheletti saluto Sara Gazzoni saluto Stefano Sigali grazie a Dio c'è il popolo e la famiglia a combattere in prima linea e senza paura vedete che non sono solo sono partito forse come una sola persona che ha scritto un piccolo libro voglio la mamma e 5 anni dopo eccoci qua una sola persona ha dimostrato forse di non essere una persona sola e ci siamo ritrovati in 220.000 e ci avete detto che eravamo pochi forse siamo diventati di più in questi altri sei mesi di dolore e di fatica che hanno attraversato la storia del PDF nel 2018 dopo il tratimento dei Vili e ora ci aspettiamo ci apprestiamo a fare un 2019 in cui si riparte con il reddito di maternità tour Mirco De Carli riparte da Bologna con Nicola Di Matteo coordinatore nazionale che lavora ormai in ogni angolo del territorio di questo paese voglio ringraziarlo per l'enorme sforzo che sta compiendo per coordinare tutto il lavoro che c'è da fare sul territorio nazionale grazie a Nicola Di Matteo c'è Alessandra Trigila PDF Modena c'è Ilaria Giurlani siamo un popolo non abbiamo paura ecco qua gli auguri del 2019 da parte di Nicola Di Matteo io vi ringrazio molto se vorrete condividere questa diretta sul vostro profilo metterla in visibilità nonostante tutte le difficoltà che ci mette Facebook quando noi facciamo le nostre dirette Claudio Parisini ricorda Claudio Parisini ricorda che il 5 gennaio saremo tantissimi per accogliere le firme a Roma grazie Claudio Parisini Federica Lupi quello che fa più rabbia è che un manipolo di avidi furbacchioni riesce a abbindolare la stragrande maggioranza dei cattolici ha ragione Federica ma adesso piano piano facciamo il nostro lavoro cerchiamo di renderci forti e credibili anche lavorando di primo gennaio a tutela della famiglia in questo paese vi ringrazio davvero Angelo De Santi dice organizziamo un sit-in sotto il cavallo venerdì sera no facciamo una cosa migliore mobilitiamoci subito mandiamo subito i comunicati stampa facciamo rumore facciamoci sentire come popolo la famiglia in ogni angolo della comunicazione di questo paese facciamo sapere a Marcello Foa che se è un uomo di parola e ha promesso il cambiamento deve fermare almeno quel minuto di film totalmente inutile rispetto alla trama che offende la sensibilità di milioni di persone in Italia noi abbiamo questo obiettivo e ci batteremo in queste 72 ore affinché l'obiettivo venga venga realizzato un saluto anche a Maria Cristina insieme a Walter impegnata sul fronte delle regionali in Piemonte saluto Francesco Fanizzi Elra Bentini pronti all'invio del comunicato stampa benissimo ricordate che i giornalisti hanno fatto bagordi quindi prima di mezzogiorno in ritazione non trovate nessuno però adesso dopo la fine della diretta sicuramente potete fare in modo di farvi sentire da qualcuno io chiudo la diretta facendo gli auguri per un grande 2019 di battaglia perché questo siamo noi siamo dei guerriglieri lo sapete siamo in battaglia a noi la battaglia addio la vittoria forza popolo e la famiglia buon 2019 a tutti grazie a tutti